Tragedia per fortuna solo sfiorata ieri sera a lungo la provinciale 12 di Collerenti di Bellante nel Terramano, dove ha ceduto una spalla del ponte che attraversa il torrente Salinello quasi all'incrocio con la provinciale numero 8 della Bonifica del Salinello. Tragedia sfiorata perché nel momento in cui il tratto di struttura è crollata, nessuna autovettura percorreva la trafficata provinciale che collega Bellante a Mociano, la Fondovalle. A dare l'allarme alcuni automobilisti che fortunatamente si sono fermati in tempo prima di attraversare il ponte che si è abbassato vertiginosamente per il cedimento della carreggiata. È un danno enorme, la fortuna come dicevi tu è che non ci sono state vittime coinvolte in questo crollo. È un danno enorme perché ci sono delle intere comunità in questo momento che sono praticamente isolate. Tra l'altro tornano ad essere isolate dopo anni in cui sono già state isolate, prima che venissero svolti i lavori proprio su quel ponte da parte della provincia di Terramo qualche anno fa. Questo è un danno. Oggi ci sono cittadini che si recano attraverso la provinciale 8, che sta a valle di questo ponte tutti i giorni a lavorare a Tortoreto, Giulianova, e transitano di lì. Quindi da oggi saranno costretti a fare delle strade che tra l'altro sono tra le peggiori della provincia di Terramo ogni giorno per andare al lavoro e per fare altre cose che riguardano la vita quotidiana. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto che assieme agli agenti della Polizia Stradale e alla squadra di pronta reperibilità della provincia di Terramo hanno verificato che nessuno fosse rimasto più involto nel crollo. Il ponte era stato interessato da interventi di consolidamento qualche anno fa ed era stato riaperto al traffico dopo il collaudo. Ovviamente la vicenda del ponte di competenza provinciale è stata al centro dell'incontro con la stampa convocato dal presidente Diego di Bonaventura. Ho sentito il sottosegretario, sta arrivando anche il genio civile, stiamo valutando i nostri ingegneri che sono appena tornati il danno reale e se dal tipo di danno si può intervenire con urgenza potrebbero partire i lavori subito e in un mese, due mesi riaprirlo. Se invece il danno è quello che io penso, bisogna abbatterlo e ricostruire. L'Italia ultimamente sta dimostrando che su questi tipi di lavoro anche in meno di un anno può ridare un'infrastruttura pronta per il territorio. Al momento non è ancora possibile chiarire quali siano state le cause del cedimento della spalla del ponte che ha fatto inclinare sul greto del torrente una porzione di strada aprendo una voragine che ha trascinato anche il guardrail. Sembra quasi che i forti carichi e le forti vibrazioni hanno creato uno svuotamento ed è scesa proprio la spalla di quel ponte lì. Io ho detto che ringrazio quel cittadino, un ragazzo che ci ha chiamato ed è stato positivo che ha evitato che qualche macchina, qualche scooter potesse andare su quella fessura di questo ponte. Perciò siamo felici di questo. Grazie a tutti.